Ciao amici, vediamo questa mano di uno spin and go Ogni tanto me li faccio, ma veramente ogni tanto Vi faccio vedere, rilancio, ci fa call, fagioli al sugo Mi piacciono roba i fagioli al sugo Comunque c'è questo flop Sul K c'è, lui punta 40 Call, River Dama Lui fa 220 Per me, te ne ne Per me Con le A Da 2 e 4 Ho dito Ma come fai a fare sto call? Non bloccare niente, non bloccare qua, non bloccare là, non bloccare là Le informazioni sono importanti Vi ho detto che fagioli al sugo non mi piaccia Se non mi piace il fagiolo al sugo Vuol dire che non ha niente Eh